chiamo e non lo vedo più cazzo ma cosa ecco c'è scritto anime ha comprato camion da proto animexpress eccolo qua compagno fedele si c'è anche la wifi c'è sta roba in tutto questo quanto hai speso ma hai usato un codice creatore che cazzo è? va a vedere? si ma pimp mai camion che cazzo si ma guarda anche questo fa ma con questo vinciamo io guarda sali dentro papà quando dici che tu vuoi minimizzare eh pezzi andiamo ragazzi potere dell'odice io e mei frank andiamo a luca come ci vuoi stai brutto sta roba io e mei frank andiamo al gaypride fede ma dove cazzo stai? mi sono schiantato eh questo è il muro fatta lì ciao ciao vai cario eh il cario ha scheravato c'abbiamo nemici dietro ma dove sparagli sparagli colpito colpito vicino 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 come vi giro non girare no ma porca puttana raga no 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 pigliamo sotto madonna casi estremi mi stanno sparando aia dietro no è sopra è sopra è sopra a terra a terra a terra è sopra io Luca eh raga sono a terra sono a terra stanno a su oh no è di davanti a noi si sta spostando il camion ma com'è ma raga rinimati 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 no oh cazzo ci sono più persone lì dentro all'attacco è lì e via di percorso una volta una volta morto sono morto sono morto no ti curo ti curo vai ancora sparagli spavagli in parecce non ci ma che cazzo fai per non so ho ricevuto per il primo di tre ero qui per quello si fa del dubbio raga andiamo sulle palle ma non sono morto perciutiamo sul tetto dell'ikea perché non so la sua liceo per non io mi sono buttato se si riuscite da dove more mio ma no ma doveva simulare un incidente aereo lo ammazzo così raga ecco come si simulano lì in incidente aereo l'ho preso una cosa l'ho preso sparagli sparagli no qui dentro dentro bug è sciotto ho sparato laggiù uav inbound ah eccolo eccolo lì sta scappando raga è questo qua il veicolo sta avvenendo sta facendolo andare indietro a ritromarci preso 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 sta campionando appena di sopra qua squadra a far culo salve salve signore a si si ho preso il colpito escusi è morto oi c'è una persona lì dove dove raga il seguimento sulla strada eccolo basta che lo puoi di sicuro faccio lì spio caro spesso io te stai seguendo il camion rosa che fai eh non te caghi sotto pittana puscialo puscialo a sinistra a sinistra ve lo ripingo è stata chiusa non so come faccio con mano ok ho il bombardamento dove sta dove va di bello questo tizio stiamo a osservare un tizio che sta facendo una gara di rally oh mio dio mi sparo è una trappola è una trappola ragazzi abbassatevi oh mio ah no ok abbiamo cambiato c'è un nemico c'è un nemico qui dove dove ok io sento degli spari io vedo è lì sono sceso sono sceso preso madonna siamo arrivati in tra giustizia ok via 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 tutti dentro via 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 roba ma no no falco siamo peggio eletto in posizione siamo peggio dei squadristi arriviamo li volcanelliamo ce ne abbiamo ah c'è un nemico c'è un nemico sopra il tetto oh cazzo ce ne sono oh cazzo oh cazzo uno i cecchini sopra il ykeo ok dai li andiamo a fare il culo subito sopra il tetto saliamo e scendiamo e ci buttiamo e ammazziamo vai 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 ó fai sulla sinistra puoi carazzo duro stanno qui vai ragazzi scendete ecco lì alawakbar stronzi oh cazzo c'è raga scendete qua da solo sei degli stronzi Una terra, ok Ehi, io sono morto No, merda Mi dovete acquistare, raga Oh, qui No, sono a terra, sta qui Fede, sta qui Fede, Fede Fede, 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 Fede Fede, 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 Fede Fede, Fede Ce l'ho fatta Scusatemi, raga Sì, bene, ha 10k Dio santo Fede, scendi Qui sta Ehi, raga, ci vediamo, ci vediamo in zona Arrivo, Fede Arrivo, Fede Vola, Fede Vola, Fede Io scendo solo, la No, sono cecchini qui Minchia, missile in arrivo Mi sono buttato Fede, dobbiamo fare qualcosa Oddio, mi stanno asquerando Oddio Ci siamo circondati Siamo circondati Bombardamento Vieni qua, vieni qua Salta, salta su Vola Ce l'andiamo via da qui, Barry Ce l'andiamo via Oddio, stiamo volendo esplodere Donnigri Ok, buttate, buttate, buttate Salta, salta Oh, cazzo Oh, cazzo C'è un po' di gente Che ci ha visto Flucca di sconto Dammi un po' di soldi Dai, che ci provo io Dammi 4000 Come cazzo si droppano? Ficchi ferri Non potete aprire lì sopra Non potete aprire lì sopra Cazzo, vedi veloce Oh, cazzo L'ho staccato 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 Ma quanti ce ne sono? Ma che cazzo sono? Almeno sette Cioè, motokamè farei Sì, devi carriarla, fra Io sei da solo Io, il mio consiglio è stare L'ho staccato Cioè, dove andiamo? Cioè, sono un cazzo il caposquadro Atta Tu non sei buon cazzo Là Eh Sei tu per decidere Andiamo lì Dove ho pingato Ma dove sto dicendo io? No Ma cazzo sai? Quella dove è il mio e quella dove è il tuo Eh Troppo distanti Aspetta raga, quanti ce ne abbiamo? Ah, ma vai appunto questo Ah, ma in quel punto Punto Iello Aspetta io ne ho 1600 Oh 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 Vai vai Oh ziii Dai, quella che ci racconti sempre al bar Rendono tutti Mi ricordo più come fa Mi ricordo se l'ho fatto la madre Che riesco a ridere come un pigio Dai Luca, falla Fai una battuta E' un po' come la scorella Fallo per TikTok Non so che ridere Puoi trovarmi su YouTube mentre prendiamo il volo No, non mettermi di strike, no Non ti perdono